LUCAS BEVI ANCOR Un minuto, vieni da me. Ma di preciso cosa è successo? Non posso dirtelo. Prenditi qualche giorno di vacanza, poi sistemeremo questa cosa. Allora? Cos'ha combinato quella monella? Lucas, conosco mia figlia. Lei non mente, non l'ha mai fatto. Perché dovrebbe farlo ora? Sei impazzito? Se è vero quello che dicono, giuro che ti uccido. Ti uccido con le mie mani. Volete rovinarmi la vita? Hanno detto che è successo qualcosa all'asilo. Non ascoltarli, non è vero. È la figlia del mio migliore amico. Io credo ai bambini, sempre. Maledizione, tu non hai fatto niente. Vero, Lucas? Vai a casa! Digni che voi non siete più graditi qui. Ripeti quello che hai detto! Calmati, Lucas! E loro hanno la coscienza a posto!